screening di massa tanti pesaresi alla prima giornata di tamponi gratuiti contributi alle micro imprese subito boom di richieste santa veneranda cagnolino ucciso da due pitbull senza guinzaglio cinque nuovi minibus per la flotta dell'anno di urbino una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera dedicato a tutte le principali notizie della provincia di pesaro urbino e della regione marche telegiornale di venerdì 18 dicembre che apriamo occupandoci della prima giornata dello screening di massa promosso dalla regione marche che è cominciato questa mattina e che proseguirà per sei giorni fino al prossimo 23 dicembre con tamponi rapidi e gratuiti su base volontaria a tutta la cittadinanza oggi si è cominciato a pesaro e vediamo nel nostro primo servizio come è andata questa mattinata primo giorno di screening di massa primo giorno di tamponi rapidi gratuiti e volontari predisposti dalla regione marche fino al 23 dicembre si comincia a pesaro e a urbino così come in tutti i capoluoghi di provincia marchigiani qui ci troviamo all'alberghiero santa marta alla scuola superiore che è stata designata come uno dei tre luoghi deputati ai questi test medici per la città di pesaro qui si sottopongono a test rapido i cittadini residenti al centro al mare e nei quartieri di monte granaro e muraglia sono circa le dieci e mezza di questa prima giornata di tamponi e qui all'alberghiero ci sono circa 50 60 persone in fila in questo momento tra quelle che vedete qui all'esterno e quelle che sono diligentemente in fila all'interno c'è chi si presenta naturalmente con il modulo prestampato da casa modulo è scaricabile dal sito della regione marchio dal comune ma altrimenti ci sono i volontari della protezione civile che hanno predisposto un banco con i moduli pronti da compilare all'interno sta andando bene i volontari sono impegnati anche questa volta per diciamo un'attività a favore della collettività e siamo qui dalle dalle sette e gestiamo la parte organizzativa prima del tamponamento e ad oggi in questo momento sono stati tamponati una centinaio un centinaio di volontari e sono le dieci proseguiamo nella nostra attività io credo che sia importante la regione marchio ci mette a disposizione un una cosa molto ma molto positiva cioè penso che sarebbe stato sbagliato non usufruirne e soprattutto perché nel caso in cui delle persone come potrei essere anche io siano completamente asintomatici lo verremo a sapere perché io comunque vado al lavoro vado a fare la spesa e sto bene ma se sono asintomatico è giusto che io stia a casa e rispetti anche tutte le persone che con cui sono a contatto generalmente è stata una bella opportunità e sono contento di questa iniziativa almeno sappiamo se stiamo bene stiamo male io non ho mai non ho fatto mai niente sono stato sempre bene non ho avuto né febbre mai febbre adesso c'è questa possibilità di farlo sono contento di averlo fatto in effetti noi sintomi non abbiamo mai avuti non abbiamo avuto neanche delle grandi contatti almeno per ora per con persone che state malate però appunto per dal punto di vista statistico penso che sia importante noi stamattina abbiamo fatto un giro in bicicletta siamo venuti a vedere ed è stato rapido insomma la cosa tutto sommato mi sembra che non ci siano state neanche dei non abbiamo avuto dei lunghi tempi insomma di aspettare quindi facciamo volentieri io sono arrivato sia dei 9 3 quarti anzi anche 10 quindi per far tutto ci abbiamo messo meno di un'ora e prima so che c'era più gente quindi diciamo consiglio di non arrivare proprio alle aperture perché hanno bisogno di organizzarsi il tampone era negativo quindi tutto bene molto ben organizzato la parte iniziale con qualche problema per poter avere la risposta perché quel quarticello di attesa ci vuole e in quel passaggio avanti indietro in un corridoio stretto tra chi attende chi deve uscire insomma mi è sembrato un po che questa cosa possa essere migliorato però ottima iniziativa affluenza simile qui al liceo scientifico marconi delle campus scolastico un altro dei tre luoghi predisposti a questi tamponi di massa luogo in cui vengono i residenti di pantano delle cinque torri di santa veneranda di novilara di candelara di monte cicardo e di villa san martino qui ci troviamo nello spazio riservato alle persone che hanno già effettuato il test periodicamente un'infermiera arriva con i risultati e con liberando diciamo le persone appunto negative al test per quelle invece positive c'è un apposito ambulatorio in cui si viene immediatamente sottoposti a tampone molecolare e scatta l'isolamento fiduciario e circa mezzogiorno ci troviamo ora alla vitrifrigo arena la terza postazione prevista per questo screening di massa a pesero qui vengono a sottoporsi al test i residenti di villa fastigi villa ceccolini vismara cattabrighe tombaccia torraccia soria e borgo santa maria e in questa occasione abbiamo potuto ascoltare anche il parere del direttore dell'area vasta 1 romeo magnoni ho girato tutte e tre le postazioni stanno andando abbastanza bene mi sembra che i cittadini per direi sono molto disciplinati stanno in fila senza 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 far casino e quant'altro quindi capiscono qual è l'importanza del problema gli ho ringraziati perché bisogna ringraziare anche loro perché il fatto che si sottopongono in maniera volontaria ricordiamo che è volontario al tampone è una cosa importante che per il singolo cittadino i disguidi che abbiamo avuto stamattina inizio sono disguidi banali che succedono sempre quando uno parte con delle 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 cose così importanti come abbiamo fatto noi e abbiamo notato che molta gente arriva senza 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 il modulo quindi è importante che venga i cittadini arrivino col modulo che guadagniamo tempo quindi cercheremo di parlare anche con le amministrazioni comunali per permettere a disposizione in più location possibile i moduli oltre che come abbiamo detto da noi in comune oppure nelle farmacie vedremo anche che hanno pensato anche l'edicole insomma vediamo come fare per permettere a disposizione in più moduli possibili per migliorare la 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 fila volevo ringraziare di tutti gli operatori dell'asur e anche la regione marche tramite l'assessore saltamartini tutta la giunta per questa grande operazione di screening di massa è un'operazione unica in italia pertanto l'invito che faccio come consigliere regionale è quella di partecipare più numerosi possibili a pesaro a rubino e poi nelle prossime settimane anche in tutti gli altri comuni quindi ringrazio l'asur che sta coordinando insieme al comune tutti gli operatori di protezione civile e l'invito veramente che faccio a tutti è di partecipare e nel pomeriggio si sono già raggiunti mille tamponi effettuati attraverso lo screening di massa a pesaro ricordiamo che la città di pesaro si è strutturata per riuscirne a effettuare circa 28.000 in questi sei giorni per quanto riguarda invece i tamponi delle servizie sanitario regionale sono 381 i nuovi casi di contagio da covid-19 rilevati nelle marche nelle ultime 24 ore su 3.376 nuove diagnosi per un totale di 5.085 tamponi fra i casi di contagio anche 113 episodi nella provincia di pesaro e urbino nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 13 decessi di persone contagiate da covid-19 la regione marche ha varato questa mattina un significativo contributo alla ripartenza delle micro imprese colpite da covid-19 un investimento di 10 milioni di euro che la regione ha recuperato dal bilancio consentendo alle aziende richiedenti dei contributi a fondo perduto fino a un massimo di mille euro c'è tempo fino al 23 dicembre per inoltrare domanda attraverso il sito della regione Marche ma intanto la prima giornata ha subito registrato un boom di richieste come ci spiega il vice presidente della regione Mirko Carloni questa mattina è partito il bando per lo sostegno alla ripartenza un contributo a fondo perduto per chi investe un piccolo contributo fatto per le piccole aziende, le micro imprese che in qualche modo hanno avuto un danno diretto dai dpgm e a mezzogiorno sono state raccolte 3.555 domande da parte dei codici Ateco nelle aree commerciali e 92 domande nei centri commerciali quindi in qualche modo c'è stata una grande richiesta di questo contributo e devo dire anche una buona tenuta del nostro sistema informatico che in poche ore è riuscito a tenere tutti questi accessi contemporaneamente quindi un segnale positivo consideriamo ancora che siamo più o meno a un terzo della disponibilità economica e sperando che da qui alla conclusione mercoledì si riesca ad esaudire tutte le richieste ovviamente questa non è una misura esaustiva ma è un piccolo contributo per sostenere in questo momento chi sta veramente in difficoltà a causa del crollo dei consumi e anche della chiusura dovuta a delle norme create dal governo è stata presentata a Fano la nuova app degli itinerari della bellezza di confcommercio Marche Nord un inedito strumento digitale che guiderà i turisti tra le eccellenze di 12 comuni del territorio vediamo il servizio di Simone Celli il mondo è sempre più digitale e il turismo non può di certo restare alla finestra e allora eccola qui la nuova app bilingue e del tutto gratuita dell'itinerario della bellezza di confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord una vera e propria guida portata di smartphone che consente agli utenti di tutto il mondo di conoscere le meraviglie artistiche, culturali e anche enogastronomiche dei 12 comuni aderenti con tanto di mappa e di uno spazio ad hoc in cui i visitatori potranno segnalare eventuali altri luoghi che considerano interessanti un territorio che era già in rete ma ora è ancora più in rete Sì, in rete perché mettere insieme 12 comuni non è stato facile eravamo in una rete cartacea se vogliamo oggi presentiamo anche l'app, l'app, l'applicazione, il software per smartphone e tablet che dà la possibilità ai turisti perché è in italiano e poi c'è una versione in inglese dà la possibilità ai turisti che sono già sul territorio di conoscere esattamente quello che nei 12 comuni si può trovare L'applicazione peraltro per ogni comune è divisa in sei settori quali sono i motivi, sei motivi per visitare le nostre località a cominciare da Fano dove presentiamo l'applicazione che da oggi potrà essere scaricata sia per i sistemi iOS sia per i sistemi Android Il progetto è un progetto molto complesso e l'abbiamo detto fin dall'inizio qualcuno criticava perché facevamo una guida dice nell'epoca della digitalizzazione, nell'epoca del web, dei blog, dei social e dice la Confcommercio punta ancora la guida abbiamo sempre invece sostenuto che la guida è importantissima peraltro è una guida di 150 pagine, vuol dire quasi un libro perché c'è una fascia notevolissima di turisti che ama il catalogo, ama il Deplian e quindi viaggia accompagnati da un catalogo però è un progetto complesso perché utilizziamo tutti gli strumenti del marketing del blog e i social, abbiamo tante pagine social sia su Twitter che su Facebook abbiamo diverse piattaforme dove sul web quindi l'itinerario della bellezza è stato inserito integralmente oggi ci dotiamo anche dell'applicazione quindi credo che abbiamo completato e messo in rete effettivamente tutto il nostro sistema di comuni che collaborano con Confcommercio Innanzitutto è una cosa fondamentale il fatto di fare squadra, di fare rete il fatto di far percepire il nostro territorio come un territorio unito soprattutto da quei turisti che dall'estero insomma ci guardano in una visione territoriale non prettamente cittadina Confcommercio in questo ovviamente è stata molto intelligente a creare degli itinerari con una promozione specifica che valorizzano tutte le bellezze dei nostri comuni oggi ancora più con un'applicazione di un'app quanto sappiamo che in questo momento il digitale diventa uno strumento preponderante e quindi un'applicazione che farà in modo che tutte le nostre città tutti i nostri borghi, questo territorio che non è soltanto un centro, un grande centro ma un territorio policentrico riesca a penetrare di più il mercato turistico quindi complimenti a Confcommercio e la città di Fano come in questi anni insomma c'è presente Quanto è importante per un comune come Fano essere in rete in questo modo? Ma per Fano è importantissimo, tra l'altro noi stiamo tra poco firmando un protocollo con i comuni delle vallate del Metauro e del Cesano proprio perché crediamo che anche a livello istituzionale ci sia da accelerare anche sulle macro politiche che guardino alle infrastrutture, guardino alle strategie turistiche perché il nostro territorio che sta diventando soprattutto in questo momento dell'era Covid e quindi lo sarà ancora più nel post Covid sta diventando molto interessante un territorio molto sicuro, lo dice la classifica del Sole 24 Ore, Sesti per la sicurezza su 107 province quindi direi che abbiamo un carattere veramente importante e questi strumenti ci aiutano a promuovere il nostro territorio Ed ora parliamo del progetto di Marche Multiservizi in collaborazione con la Onlus Gulliver dal titolo Cambia il finale un progetto che ha organizzato un virtuoso circolo del riuso di oggetti portando al ritiro di ben 25.000 articoli un bel traguardo celebrato dall'azienda di servizi e dalla Gulliver che in questo 2020 hanno recuperato 90.000 kg di materiali altrimenti destinati allo smaltimento come rifiuti Istancabile il lavoro della Onlus Gulliver che si fa carico del ritiro dei materiali e oggetti ingombranti che i cittadini non utilizzano più andando personalmente a ritirarli per innescare questo virtuoso circolo del riuso sono infatti gli stessi cittadini che concordano direttamente con l'associazione le modalità operative per il ritiro telefonando al numero 800 600 999 mattinata di protesta in piazza del popolo da parte di una fetta di studenti pesaresi che in linea a una giornata di agitazione nazionale hanno manifestato per rivendicare che il diritto allo studio in tempi di pandemia venga garantito davvero e non sia ridotto a semplice valutazione nel cortile della scuola dell'infanzia comunale filo rosso di via delle galligharie è stato svelato questa mattina il murale i mondi che abitiamo realizzato dall'artista maluena galimberti il progetto ideato dalla scuola dell'infanzia è stato finanziato dalla fondazione vanda di ferdinando ed è stato pensato per abbellire un luogo che fungerà anche da spazio dedicato agli eventi del quartiere centro si è tenuta oggi presso l'istituto bramante genga di pesaro la presentazione del progetto formativo capitanato da confartigianato imprese ancona pesaro urbino insieme a bs group e a diverse imprese artigiane associate come tomassi galanti federici luca ec e rz di zarini riccardo il progetto si rivolge agli studenti dell'indirizzo industria artigianato per il made in italy settore legno arredo e prevede durante l'anno scolastico e nei successivi anni di specializzazione incontri con le imprese focus sulle soluzioni tecnologiche e sui programmi di gestione delle macchine ed ora vi raccontiamo una brutta vicenda accaduta nel quartiere di santa veneranda qualche giorno fa un residente ci ha infatti segnalato come la sua consueta passeggiata mattutina con il cane Snoopy di sei anni si sia tramutata in un dramma il cagnolino infatti è stato aggredito e ucciso da due pitbull senza guinzaglio e senza museruola appartenenti ad un altro residente del quartiere come al solito sono uscito con mio cane Snoopy a portare l'immondizia in via Antonio via Giovanni Antonio da pesero santa veneranda vicino a bar fabio è successo che all'improvviso mentre mi ricavo i bidoni mi vede di fronte due cani pitbull sciolti praticamente senza guinzaglio senza museruola senza niente che mi sono corso incontro e mi hanno ferrato il cane io ho cercato di alzarlo ma me l'hanno strappato le mani e me l'hanno preso morsi e non l'ho più lasciato e lo sbattevano a destra e sinistra fino a che l'hanno straziato una roba impressionante neanche nei film succede una roba così io insieme al padrone che era corso insieme a me abbiamo cercato di liberare questi cani dal mio cane ma praticamente è talmente feroce erano che l'hanno sbattuto destra e sinistra come fosse una pezza da piedi fino a che non hanno straziato sbriciolato si può dire a un certo punto hanno lasciato il cane perché l'ha visto che era morto e quel punto lì avevo tutti i vestiti insanguinati le scarpe i pantaloni anche il giubbotto tutto insanguinato per cercare di difendere il mio cane l'ultima cosa che ho fatto accarezzare il mio cane che vedeva proprio gli mancavano dei pezzi proprio ho cercato di toccarli il musino e lui ha dato un leggerissimo leggerissimo morsino come per dire ciao ti saluto è una cosa straziante non capiterà mai a nessuno ma non ne avrò nessuno a questo punto visto che il cane era morto ho chiamato la house di via nitti che ha mandato un loro vetrinario per controllare l'accaduto e poi ho chiamato anche i vigili urbani per venire a fare un piccolo verbale sapere cos'era successo non era successo ha visto ha fatto delle foto ha visto anche loro come era successo per noi è stata una cosa una perdita impressionante io e mia moglie siamo straziati non riusciamo più neanche a guardare dove dove andiamo perché la nostra abitudine era talmente insieme al cane che era un figlio per noi è una cosa fuori di testa è straziante ancora stiamo piangendo da tre giorni mai che è successo ancora stiamo piangendo per questo motivo davvero una spiacevole vicenda quella che ci ha raccontato questo nostro telespettatore e anche per tutti voi che ci seguite quotidianamente vi ricordiamo il numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 cambiamo argomento perché questa mattina a urbino l'azienda di trasporto pubblico ami ha presentato i cinque nuovi minibus che si aggiungono ad altri sei già acquistati nell'arco del 2020 vediamo il servizio di andrea sabatini questo fa parte del diciamo sia uno dei tanti interventi di investimenti che ami ha programmato nell'ultimo biennio sono tutti saranno tutti utilizzati nella città di urbino saranno utilizzati soprattutto per il trasporto degli studenti ci auguriamo anche per altri utenti che mi auguro a presto prestissimo riesco riempiano le strade urbino come un tempo sono di mezzi di ultima generazione sono tutti euro 6 a basso impatto ambientale dotati anche di una serie di accessori come tutti i mezzi nuovi che compriamo da un certo periodo di tempo in qua quali ad esempio la video sorveglianza a bordo avete visto che c'è un sistema di contapasseggeri il cliente dall'esterno si rende conto se ci sono dei posti libri o meno e soprattutto questo è utilissimo in questa fase particolare dove la capienza è ridotta del 50 per cento che speriamo come dicevo prima che finisca tutto presto nell'anno del 2020 già ne avevamo acquistati e messi in esercizio altri sei e altri cinque seguiranno nei prossimi giorni tutto questo per cercare di dare sempre un servizio migliore ai cittadini alla città all'ambiente perché sono tutti euro 6 di ultima generazione la politica aziendale è quella di continuare con questo forte rinnovo del nostro parco che negli ultimi tre o quattro anni già abbiamo rinnovato circa il 30 per cento tra l'altro questo 30 per cento fa circa la metà dei chilometri complessivi la nostra politica sarà quella di continuare su questa strada dando sempre più attenzione all'utenza e all'ambiente devo ringraziare il presidente luciano balducci e il direttore e tutto sullo staff perché veramente stanno facendo un ottimo lavoro hanno riportato la società negli ultimi 4 5 anni a un livello veramente ottimale capace di fare gli investimenti per dare un servizio come stamattina viene presentato con mezzi più adeguati idonei per i disabili cioè tutte le caratteristiche che un trasporto di ultima generazione debba avere quindi ringrazio ovviamente la regione che sta facendo un programma di investimenti importante sul tema del trasporto pubblico perché dobbiamo assolutamente andare in linea con quelle che sono le linee guida europee sul trasporto a basso impatto quindi sul basso impatto ambientale sul trasporto pubblico perché dobbiamo sicuramente tutti quanti pensare che dobbiamo utilizzare di più il trasporto pubblico e per fare questo la nostra società partecipata di cui Urbino è il socio di maggioranza ho spinto anch'io perché vengano fatti gli investimenti per dare un servizio adeguato ai tempi che che viviamo ed ora ci occupiamo della fondazione Filippo Fattori una fondazione nata nel 1990 che ogni anno premia gli studenti delle scuole della provincia portatori di affezioni come distrofie muscolari o malattie neurologiche che si sono distinti nell'ultimo anno scolastico vediamo a tal proposito l'intervista al presidente della fondazione giuseppe fattori intervistato da giorgio ricci anche quest'anno malgrado le difficoltà note a tutti la fondazione ha provveduto a selezionare le domande pervenute a graduare ed assegnare i premi agli studenti delle varie scuole medie inferiori e superiori della provincia che hanno presentato domanda per coincidenza le domande sono state 55 e pari a quello che era stato sempre da anni il budget che la sua fondazione si è assegnata in relazione alle proprie disponibilità quindi sono lieto di dire che tutti hanno ricevuto il loro premio negli anni scorsi in questa sede venivano tutti i giovani premiati venivano le loro famiglie sostanzialmente era una festa e dirò che sia i genitori che i ragazzi hanno sempre manifestato la diciamo la felicità di questi di questo incontro quest'anno non abbiamo potuto farlo forse neanche l'anno prossimo però abbiamo lo stesso assegnati premi provvederemo a distribuirli abbiamo già cominciato ma non ci bastava la semplice consegna dei premi volevamo mandare loro un messaggio messaggio che fosse di congratulazioni nuovamente di apprezzamento e di incitamento a perseverare sulla loro strada sono stati bravi quindi si chiama premio perché non è una regalia ma è un qualche cosa che i giovani si sono meritati e dirò che se lo sono meritati anche le loro famiglie che riescono a supportarli aiutarli ad essere il loro il loro fondamenta ancora ci sono persone che mi dicono noi non sapevamo niente eppure ci sono state comunicazioni sulla stampa sui giornali sulla sulle radio e ma alcuni non vengono raggiunti speriamo che questo numero limitato di quest'anno diciamo non limitato sia di peso effettivamente da un calo di presenze di affezioni piuttosto che da una mancanza di informazione fin d'ora dico che la fondazione è già pronta a demettere il prossimo bando per l'anno successivo e quindi raccomando a tutti di dare informazione pubblicità perché chi si trova nelle condizioni di meritarlo possa presentare la domanda con della relativa documentazione molti familiari mi hanno anche detto che si sentono un po abbandonati qualcuno ha detto lei è l'unico che si ricorda di noi spero come sia così è sicuro che ci sono anche altre associazioni forse meno visibili che si occupano di queste cose ma mancano i collegamenti uno dei lavori da fare sarebbe quello di collegarsi fra tutti e non hanno neanche chiaro a chi si possono rivolgerli sicuramente ci saranno uffici o settori dei comuni delle province delle regioni che si occupano di dare supporto a questi a questi ragazzi e le loro famiglie ma manca l'informazione non sanno a chi rivolgersi questo sarebbe un ulteriore lavoro che deve fare o la fondazione o qualcun altro poiché siamo nelle prossimità delle festività natalizie prendo l'occasione nel fare oltre a rinnovare i complimenti a questi giovani nel fare auguri per le festività natalizie sia loro e le loro famiglie nonché per il prossimo 2021 che tutti speriamo sia migliore in questo ed era questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento sul nostro canale 633 Rossini tv a cominciare dalla prima serata questa sera alle 21 e 15 approfondimento sulle tematiche della confcommercio Marche Nord con il direttore provinciale Amerigo Varotti intervistato da Emanuela Rossi a seguire alle 21 e 30 magiche feste al giardino di Santa Maria vi ricordiamo anche che domani sabato 19 dicembre c'è la rassegna stampa del sabato in diretta dai nostri studi come sempre alle 7 e 20 a condurla sarà Marco Cadedu per gli sportivi non dimentichiamo anche che domani sabato 19 dicembre trasmetteremo la partita dell'Ital Service Calcio 5 in trasferta contro la Cybertel Aniene alle 18 appunto partita in diretta davvero da non perdere ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale da tutta la redazione il più cordiale saluto e un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV